Anche tu vorrai giocare magari contro Runei a Wembley. Non so se sarei in grado, ma è uno sogno. Io ho giocato a Wembley due volte, per dire. Sì, diciamo, sono le nostre piccole soddisfazioni. Lavoravo anche come magazziniere per la federazione. Mi permetteva quindi di poter realizzare il mio sogno e in più di lavorare. Mi ritrovavo sicuramente con i miei colleghi di lavoro alle partite, però io ero in campo. La differenza era quella. La Nazionale di San Marino è molto più di una squadra di calcio. È un modo per dire al mondo che la Repubblica non ha paura di nessuno. Non importa quanti milioni di persone vivano nelle nazioni che devono sfidare. In campo si va comunque 11 contro 11. E per come stanno preparando il futuro, non è detto che andrà sempre come è andata fino adesso.